Mangia 4 mandorle al giorno e questo succederà al tuo corpo. Ciao amici, chi ama le mandorle? Noi ne andiamo pazzi, anche io le adoro. Le mandorle sono un cibo incredibile, ricchissimo di nutrienti come vitamina B, magnesio, aminoacidi, grassi buoni omega 3, proteine. Sono uno dei superfood più antichi usati nel Mediterraneo dagli Egizi e anche in India. Allora ne faccio una scorpacciata. Aspetta, ne bastano solo 4. Le mandorle sono un cibo potente. Mangia 4 mandorle ogni giorno e il tuo corpo si trasformerà. Se vi piace l'idea mettete subito un mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Dimagrimento. Questo mi interessa. Le mandorle sono tra i cibi naturalmente brucia grassi. Contengono i grassi buoni necessari al corpo per smaltire le riserve di adipe. Aiutano a ridurre la fame nervosa e ne bastano 3 o 4 come snack. Spezza fame. La vitamina B, le proteine e le fibre aiutano a sostenere il metabolismo. 2. Cura della pelle. Le mandorle sono amiche della pelle. Ricche di vitamina E antiossidante contrastano l'invecchiamento della pelle e hanno un effetto anti-age. Mangiati ogni giorno aiutano a mantenere la pelle morbida ed elastica. Non a caso da sempre si usa l'olio di mandorle per cicatrizzare le smagliature. 3. Ossa forti. Per chi è in pre-menopausa o in menopausa e vuole fare prevenzione contro l'osteoporosi, le mandorle sono un alleato sfizioso. Sono ricche di calcio, facilmente assimilabile, magnesio e potassio, indispensabili per fissare il calcio e aumentare la densità delle ossa. 4. Anticolesterolo. I grassi monoinsaturi e polinsaturi sono utili per regolare il colesterolo. Secondo le ricerche, mezza tazza di mandorle al giorno riduce il colesterolo cattivo LDL dell'8-10%. 5. Cuore circolazione. Uno studio ha scoperto che chi mangia mandorle 5 giorni a settimana abbassa il rischio di infarto del 50% rispetto a chi non ne mangia. Questo beneficio è dato dalla proprietà di abbassare la proteina C-reattiva, noto fattore di rischio dell'indurimento delle arterie. 6. Cervello. Le mandorle sono molto benefiche per il cervello, la memoria e la vista grazie al contenuto di aminoacidi e antiossidanti. Riducono lo stress ossidativo nemico delle cellule cerebrali e nutrono i tessuti del cervello e del sistema nervoso. Ecco perché le mandorle non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta sana. Per conoscere i benefici di tanti altri cibi iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali Naturalmente! Ciao!